Onorevole Stefania Pezzopane, per fare così un bilancio della situazione a Roma e qui in Abruzzo, segnatamente all'Aquila, non possiamo che cominciare dal Decreto Sisma. Adesso si attende il passaggio al Senato. Lei ha avuto parole di apprezzamento per quello che è stato partorito finora. Sicuramente anche perché nella funzione di relatrice ho avuto modo di seguire ogni passaggio e di poter anche supportare le iniziative con il mio lavoro. Quindi il Decreto Sisma esce dalla Camera molto forte. Si occupa di sei terremoti e quando nel testo del Governo si occupava solo del Decreto e della Sisma del 2016-2017. Abbiamo inserito norme anche sul 2009, una molto ma molto importante, quella relativa allo sblocco dei sottoservizi che consente lo sblocco di ben 48 milioni di euro per i 56 comuni del cratere. Ma sull'Aquila c'è anche la salvaguardia dei 700 mila euro per il Festival degli Incontri. E su questo ci torneremo. Perfetto. Intanto abbiamo messo in sicurezza le risorse così come abbiamo autorizzato il Sindaco a utilizzare un milione di euro per i precari, abbiamo messo le risorse per i bilanci. Insomma tanta roba. Poi sul 2016-2017 veramente moltissime iniziative dalla semplificazione all'abbattimento al 40% delle tasse sospese, agli incentivi per i giovani agricoltori. Quindi diciamo il Decreto dà una svolta obiettivamente forte e nel Decreto abbiamo inserito anche questa norma di cui mi sono fatta carico del blocco degli aumenti autostradali per due anni fino ad ottobre del 2021. Rimanendo al cratere 2016-2017 c'è però chi dice le risorse non sono affatto sufficienti sul fronte delle assunzioni di nuovi addetti nei vari uffici speciali delle quattro regioni compreso l'Abruzzo perché poi il nodo è quello. Beh le risorse sono tante perché è stato aggiunto a quello che già c'era un fondo per gli amministrativi contabili ovvero per quelle funzioni necessarie per tutta la parte amministrativa e nel cratere 2016-2017 devono ancora assumere 200 persone del precedente intervento quindi il governo ha detto assumete queste 200 persone e andiamo a regime. Per quanto riguarda adesso il passaggio al Senato non ha le sue competenze più o meno cambierà l'impostazione. Non cambierà sarà un abbiamo fatto tutto alla Camera al Senato sarà un passaggio burocratico. Il risultato consolidato è con tema e servono altri soldi per completare la ricostruzione dell'Aquila. È assolutamente sì questo è un tema servono per l'Aquila e per il centro Italia però l'Aquila adesso ancora un miliardo e sette. Noi ci auguriamo che lo spenda rapidamente e che dimostri che nel 2020 ha saputo spendere le risorse assegnate perché poi nel 2020 dovremo assegnare quelle nuove.